O bianco o nero, vi offerto da... O bianco o nero Ma come eravamo? Come siamo cambiati e soprattutto come ha influito la televisione nella crescita degli italiani? Quando si parla di memoria non si può certo fare a meno di pensare alla comunicazione televisiva, la quale ha giocato un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda la comunicazione. Il mio personale ricordo va ai pionieri di quella televisione così piena di entusiasmo, partecipazione, eccellenze che crescevano man mano che i progetti si realizzavano. Una staffetta che implementava il disegno radiofonico che fino agli anni 50 aveva avuto il ruolo di raccontare eventi e farceli sognare, diventando epici nei nostri ricordi. Una televisione che voleva far partecipare tutti, una televisione memorabile dove vedevano le persone coinvolte, i telespettatori, in maniera incredibile. Personalmente ho dei ricordi strepitosi di signore che prima di accendere la televisione si cambiavano d'abito per far bella figura e conduttori televisivi che con classe ed educazione entravano nelle nostre case quasi chiedendo scusa o meglio permesso. Chi si ricorda dei cinegiornali? Un preview dei nuovi TG, i quali precedettero la nuova frontiera dei telegiornali con la formula dei conduttori che come un vecchio amico di famiglia raccontavano gli accadimenti del giorno. Quanta nostalgia di quegli elettrodomestici così ingombranti e affagginanti, scatoloni da addobbare con soprammobili e statuette. I commentatori sportivi non avevano bisogno dell'interlocutore tecnico perché essi stessi erano tecnici di quello che raccontavano e le emozionanti riprese delle partite di calcio con sole due telecamere, pensate, che sapevano far emozionare ancora più di oggi le telecrona. Una televisione fatta da gente preparata che sapeva offrire eccellenze di primordine. Le pubblicità sempre oneste e attente alle ricorrenze, una reclame non per tutti ma per tutti. Oggi il mondo della comunicazione è cambiato, il livello pubblicitario è sceso di qualità, quindi al contrario di una volta, per tutti ma non più per tutti. L'educazione del triangolino che ci avvertiva che su un secondo canale stava iniziando un altro programma che forse poteva interessare. Una televisione mai urlata dove le eliti e le parolacce non erano strumento spendibile. Oggi siamo invasi da informazioni e la gente pare più disinformata di prima. Incredibile. Attualmente la situazione ci pare peggiorata, ci sono programmi che a detta di molti sono diseducativi. Telegiornali di parte che a piacere delle posizioni politiche danno notizie diverse a seconda delle indicazioni di editori, o meglio proprietari, che hanno a cuore gli interessi aziendali più che alle esigenze vere della gente. E via via ci troviamo a guardare programmi di emittenti private a carattere locale, dove la libertà di informazione ci pare in patetico pericolo. O bianco o nero, poi iniziamo. Buonasera a tutti e così iniziamo. Oggi abbiamo un partito veramente incredibile anche perché insomma insorgono in me dei ricordi eccezionali. Innanzitutto vogliamo presentare il senatore Giacomo Santini, grazie per essere con noi. Ricordi di quella televisione, di quando lei conduceva Giro Sera, quando lei mi commentava il Giro d'Italia, i tour, facendo veramente creare delle cose molto 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 belle per noi telespettatori. Poi abbiamo Alessandro Ticce, grazie per essere con noi. Grazie a tutti. Sei un conduttore di vecchia data, sei un pioniere delle tv private e quindi insomma qualcosa potrei raccontarci. Cercheremo di tirare fuori dalla miniera, visto che siamo pionieri, capire come eravamo e come siamo adesso. Grazie al dottor Luigi D'Agro che ci darà un po' il punto della situazione di chi siamo oggi rispetto a 50 anni fa, se siamo meglio, peggio oppure insomma va bene così. Grazie per essere con noi. Grazie a lei. Senatore, la chiamo senatore perché giustamente lei è senatore della Repubblica, quindi per ora sì. Però la domanda non riguarda la televisione ma riguarda una cosa che volevo sempre chiederle. Lei era europarlamentare, mi pare che era l'europarlamentare con più presenze in assoluto a livello europeo, addirittura sbancando anche un tedesco se non sbaglio. Poi dopo come va la politica? Lei l'hanno mandata a Roma, sarà contento mi auguro per lei, però ci è rimasto un po' male o meno? No, beh, io preferivo rimanere al Parlamento europeo, quel record di presenze, ma fu un record involontario, io semplicemente andavo al Parlamento europeo tutte le volte che bisognava andarci, vale a dire dal lunedì al venerdì, quindi andandoci con metodo, grazie a Dio ho avuto anche buona salute evidentemente, e sono riuscito per due legislature a essere più presente. e questo ha un valore maggiore, un record fatto lassù, perché ho battuto i belgi che giocavano in casa, i francesi quando eravamo a Bruxelles, i francesi quando eravamo a Strasburgo, è per questo che ha valore. Ma chiaramente non è solo la presenza che può avere un significato, ma che cosa poi si andava o si va a fare al Parlamento europeo nel nome dell'Italia e nel nome delle regioni che mandano un parlamentare lassù. vorrei ricordare che nelle cinque grandi macro regioni che eleggono i parametri europei c'è anche il Veneto, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Quindi uno si sente investito di un mandato veramente ampio e forse anche per questo bisogna andarci davvero, rimanerci e impegnarsi. Un progetto che sicuramente vedrà il compimento dell'Europa chissà, forse fra 20-30 anni. L'Europa non sarà mai compiuta, lo dicevano, l'hanno ripetuto, i padri fondatori, Jean Monnet diceva sempre che l'Europa è cresciuta e vive e vivrà sempre attraverso le molte crisi di cui soffre. Quindi non dobbiamo meravigliarci se di tanto in tanto l'Unione europea, l'Europa, la comunità europea, come si chiamava una volta, vengono messe in discussione. È normale, è fisiologico, meno male che si ha voglia di discutere. Quindi l'Europa sarà sempre più attuale, non a caso quando c'ero io dal 1994 al 2004 eravamo 15 paesi, oggi siamo 27 paesi e altri stanno bussando per entrare. Quindi significa che ha un senso andarci, impegnarci e soprattutto ha un senso difendere l'Europa. Benissimo, allora Alessandro, siamo colleghi di vecchia data, tu sei stato tra i primi che hanno fondato le tv private in qualche maniera, ricordo proprio a Bassano con Tele Alto Veneto, quindi sai un po' raccontare la storia di come si era e le eccellenze, qua abbiamo il senatore che di eccellenze ne ha sapute spendere, poi dopo in qualche maniera oggi fa un altro tipo di servizio, però nella televisione qualcosa è cambiato da allora oppure oggi va meglio così? Sono cambiate tante cose, tu hai citato un nome, Tele Alto Veneto, la tv dove ho lavorato per dieci anni, mi sono fatto come tante persone proprio le ossa, perché erano un po' anche gli anni della passione. Questo mestiere si fa, tu lo sai bene, come tanti altri mestieri, solo se lo ami, perché non hai orari, a volte non hai domeniche, feste comandate, quando lavori per questi progetti molto spesso non ce li hai, per cui devi avere una componente di passionaccia senza la quale assolutamente non arrivi a... Ma rispetto a 25-30 anni fa, quando sono nati questi pionieri delle tv private, che bene o male, si ingegnavano a fare cose che veramente con un certo piglio, anche un certo coraggio, non so quanto coraggio fosse stato, quanto non lo so... Un po' di incoraggio, un po' di incoscienza, un po' anche di visione, perché avevano delle visioni alcuni anni fa. Si credeva di fare qualcosa per il bene della comunità. Si credeva di spaccare il mondo, però con i piedi ancorati sul territorio. Questa era la sensazione di quegli anni. A parte che eravamo più giovani, per cui c'era un'energia di quel tipo. Adesso è cambiato tutto, non solo sotto il profilo tecnologico, con questa controversa rivoluzione del digitale terrestre, ma proprio sotto il profilo dell'impostazione del lavoro. A parte che noi all'epoca andavamo in giro con i nostri operatori, che erano dei borsoni giganteschi, che pesavano dei chili le batterie. Adesso ci sono i giornalisti che escono con le telecamerine. È il progresso, ma è anche l'esigenza di risparmiare. E quindi questo forse ne pregiudica anche la qualità. Dottore, il discorso è questo. Rispetto a 50 anni fa, è chiaro che non si possono fare delle proporzioni, però il linguaggio televisivo è cambiato. Secondo lei è cambiato in meglio o in peggio? Oppure oggi c'è una televisione più grintosa, più invasiva rispetto a 40, 50 anni fa o a 30 anni fa? A 50 anni fa la televisione era una novità. E proprio perché era una novità si ascoltava la notizia. Adesso la si guarda. È molto diverso. Quindi è l'occhio che vuole la sua parte, che caratterizza il fulcro dell'attenzione. Non è il contenuto verbale della notizia. Non si comprende la notizia, si vede l'immagine. Tanto che poi ci sono dei falsi stratosferici addirittura portati a livello mondiale. Ricordo la guerra del Golfo, del Cormorano, non fu assolutamente mai identificabile con la realtà dell'Iraq. Fu fatta da una spiaggia australiana. Però, voglio dire, è capitato che si sono modificati non soltanto gli occhi, ma anche gli interessi del mondo della notizia. Gli editori erano quelli pubblici, oggi sono gli editori privati. Gli editori privati giocano il processo sulla notizia, ma anche la possibilità che tramite una televisione, non solo di tiratura nazionale, commerciale nazionale, ma anche locale, ci sia prestigio per l'editore, capacità di infondere, quindi sull'opinione pubblica territoriale, un proprio primato, un proprio peso. Quindi, se mi permette, non è più la televisione che informa, ma la televisione che diventa per l'editore un potentato, una voglia di, in qualche modo, scalfire altri interessi. Senatore, oggi vediamo che, in pratica, chi si gioca la partita, sono le tre reti Rai, chiaramente poi dopo le altre tre Mediaset, che in qualche maniera hanno un po' il monopolio, poi ci sono le TV commerciali che in qualche maniera cercano di tirare sera, e qui ne affronteremo con Ticci in quale misura e in che forma. Rispetto però a una volta c'erano eccellenze, sull'apertura si diceva una televisione non per tutti, perché chi poteva fare televisione aveva bisogno di spendere eccellenze e grandi professionalità, però era dedicata a un mondo per tutti, cioè per tutti coloro che in qualche maniera erano i consumatori ed erano anche coloro che dovevano offrire delle informazioni. Io credo che questo sia un po' cambiato rispetto a una volta. Ma io penso che ogni epoca abbia la televisione che si merita, ma più che di televisione parlerei di informazione radio-televisiva, come si dice in gergo informazione della stampa elettronica. Se pensiamo alle origini della radio e della televisione, diciamo che c'era anche un pubblico molto più curioso, come diceva il dottor D'Agro, molto più timido, disposto ad ascoltare, a mettersi in posizione per appunto apprendere ad ascoltare. Oggi c'è una interattività, come si dice in gergo, fin troppo evidente. Ogni epoca, dicevo, ha la televisione che si merita. Beh, evidentemente una volta eravamo persone più moderate, tranquille, forse anche un po' più titubanti nell'affrontare un microfono. Oggi, se non glielo porgi, te lo strappano il microfono. Oggi c'è una televisione, per esempio, maleducata. E quale sorpresa. Evidentemente, anche a livello di società civile, sono cambiati i modi di proporsi e di dialogare. Io cominciai a fare radio, era, nel 1966, alla RAI di Trento. C'era ancora più radio che televisione. Non dimentichiamo che la TV regionale fu introdotta nel 1979 dalla RAI. E quindi il vero confronto fra le televisioni private di allora e le televisioni RAI fu con la terza rete, incominciò lì. Prima c'erano state le famose radio pirate, le televisioni pirate. C'era una grande confusione. Che però contribuirono a rendere migliore anche il servizio della RAI. Perché fino ad allora noi agivamo in regime di monopolio. Tutto quello che facevamo andava bene. Se avevamo delle idee, bene. Se non le avevamo, nessuno ce le soffiava. Poi la concorrenza, come si dice, è l'anima del commercio. E la concorrenza ha migliorato e di molto il servizio della RAI a tutti i livelli. Ma diciamo che la RAI ha tentato, per molti anni, di rimanere comunque un esempio ed un modello. Ecco, la maleducazione oggi imperversante su molti canali anche della RAI non c'era, era vietata, si tentava di arginarla. E quindi c'era questa differenza. Se uno era sguaiato, diceva parolaccia, è perché era in una televisione privata o libera, come si diceva. Noi non eravamo liberi. Ma in realtà era solo un modo di comportarsi. Oggi, voglio dirlo, io rifiuto per prime certe trasmissioni del RAI dove la volgarità, l'arroganza, la supponenza di troppa gente rende difficile anche la comprensione di un problema. Era ipotizzabile 30 anni, 40 anni fa, che un direttore entrasse in una trasmissione indiretta e bacchettasse il conduttore, secondo lei? No, assolutamente. Ma lì è stata una caduta di stile un po' di tutto e di tutti. Oggi questo è un segno dei tempi. Anche i rapporti, non solo fra le persone, ma fra le gerarchie, si sono modificati e si sono sviliti, io credo. Un direttore ha mille modi per intervenire su un dipendente. Ora però bisogna capire bene se quel signore che è stato redarguito in diretta si possa considerare un dipendente, visto che si comporta invece da padrone. Dottor Luigi D'Agro, abbiamo visto come la televisione sta entrando, io credo in questa maniera invasiva, dove si decanta, si rilancia l'odio, impicca di questo linguaggio che lo vediamo purtroppo anche nelle piazze, anche oggi giorno, in qualsiasi piazza, in qualsiasi città, in qualsiasi paese. Sta cambiando completamente il linguaggio dei nostri giovani e credo che questo influenzi parecchio. Guardi, Grande Fratello è un format che viene importato, è stato importato, non è che abbiamo inventato chissà che cosa adesso qui, tanto per interessi se non ci fosse in italiano si potrebbe vedere in spagnolo, in tedesco o quant'altro. Nella sostanza quindi anche la televisione cosiddetta nazionale ha avuto un principio di globalizzazione e in qualche misura non si fa portare via dalla concorrenza magari l'idea che quello spazio dei format, quindi dei reality, possa essere visto da chi è affezionato a questo tipo di realtà, da realtà di altra natura, da piattaforme diverse. Poi si sa perfettamente, su questo si gioca moltissimo della pubblicità, ma di fatto che cos'è il Grande Fratello che viene visto in televisione? È un promo per che cosa? Per quell'installazione di chi guarda dal buco della serratura, ma che dà molti soldi all'editore, che in qualche modo tiene in piedi e fa guadagnare all'editore anche per magari altri programmi che non hanno la stessa identica capacità di appile e quindi di attrarre la cosiddetta pubblicità. Come vede, per esempio, rispetto a 15-20 anni fa, la radio sta riacquistando molti utenti. Perché? Perché c'è una parte, ma è anche giusto che sia così, gli eccessi riescano poi a trasformare le cosiddette logiche di culto, fra virgolette. Oggi c'è molta gente che vive l'esperienza della radio perché vuole ascoltare, cercare di comprendere. La televisione non fa comprendere, però la parte intelligente di noi deve farci capire che il grande fratello ci dà uno spaccato di una popolazione che in qualche misura, quella giovanile o via di là, che ha questo tipo di rapporto non solo con il linguaggio, ma con i sentimenti e anche le provocazioni della vita di relazione. In sostanza dobbiamo guardare anche questo aspetto come fatto che costituisce nella realtà nazionale che viviamo un dato oggettivo. Certi sociali hanno fatto dei grandi commenti su questo programma creando anche la spocchia, secondo me è anche abbastanza fuori senso che il grande fratello è uno spaccato della società, eccetera. È possibile che in questi dieci anni il grande fratello abbiano capito che funzionava, guardate come diceva prima il dottore, dietro la serratura, dal buco della serratura, spiare gli altri nei comportamenti e giudicarli. Oggi ne vediamo, veramente siamo pieni con i giornali, non voglio andare sul caso Rubi perché se no oramai l'hanno citato, però c'è questo malcostume di guardare gli altri senza guardare se stessi e poi poter giudicare. Io non so chi possa a casa avere, non la curiosità, ma il gusto proprio di mettersi lì e seguire con passione. Lo zapping lo facciamo tutti, io ne parlo proprio perché per poter criticare un qualcosa devi averlo almeno visto. Il massimo ascolto che ho avuto per uno di questi programmi è stato di 12 minuti per capire come mai un mio amico fosse finito così in basso andando a parteciparvi. Era Chiappucci per fare nome, il ex corridore ciclista. Ricordo bene. Ecco, ricordo anche la sua umiliazione e ricordo l'imbarazzo di tutti coloro che gli volevano bene nel vederlo in quel posto. Esatto. Morale. Andò con una certa dignità, bisogna por dirlo. E' un modello per chi lo fa, per chi l'ascolta, ma soprattutto per il messaggio che contiene. Questo è il modo di stare insieme. Ecco perché poi sono nati gli altri demenziali, talk show, con tutti quegli pseudo esperti che sembrano usciti tutti da una università super specializzata su quel tema e sputano opinioni personali più che discutibili come sentenze. Poi vi farò una domanda comune a tutti e tre, prima farò un piccolo rendiconto pubblicitario. Va di moda, stiamo uniti? No, scioglieteli, se volete guardarla bene, se no cambiate canale e fate come preferite. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Foto Brink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Brink Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Brink, siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante è dotato di 60 coperti e in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per un'ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini. Via Trento, Solagna, Vicenza. Bene, intanto c'è stata la comunicazione che il Milan, insomma, in qualche maniera sta vincendo a San Siro, quindi... Altri no, però, insomma, io sono intervista, per cui voglio dire, insomma, in qualche maniera... Domanda congiunta era, dopo questa espressione che abbiamo potuto tutti comunemente vedere, mi viene in mente una fatidica frase che si usava nel tempo di Tangentopoli, busta che ti sarà aperto, dice, tutto naviga intorno ai soldi, sia che siano emittenti di un certo livello e sia che poi dopo andiamo anche su emittenti private, come la nostra, che si devono guadagnare il pane con le centinaia di telespettatori. Insomma, noi saremmo contenti di poter fare 100 mila. E' sempre stato l'elemento centrale dell'attività televisiva. C'è una certa ricattabilità, insomma. Ma quella sempre, poi dipende, naturalmente, chi è al di là dell'antenna, tiene anche la schiena dritta e la vita non è facile, anche per quanto riguarda il lavoro di chi è nell'emittenza, nell'emittenza locale. Un appunto sui reality. Anch'io, come senatore, non li guardo, ma non li sottovaluto, perché ho notato la moltitudine di ragazzi che, ad esempio, anche qua nel nostro territorio fanno le selezioni, forse per questo lavaggio del cervello. Ma il rischio qual è? Che a causa del reality la loro vita diventi una fiction. Questo è il grande rischio. Mentre un altro format nazionale che ritengo, se non migliore, perlomeno più interessante è quello di talent show. Là, perlomeno, devono mettersi in gioco e non urlare... La domanda che viene dopo, Alessandro, è quella che, non so se voi avete visto, avete notato un servizio delle Iene, dove c'è una sorta di burla, di candid camera, dove invitano i genitori a scrivere i loro figli, ai minorenni, di 4, 5, 6 anni, e poi man mano implementano le domande, quando sei disposto anche a far fare dei tatuaggi, perché lo sponsor fa i tatuaggi e quindi il bambino viene tatuato. Con una facilità esagerata questi genitori dicevano sì, va bene. Quindi, voglio dire, i genitori qua, dottore, stiamo andando fuori dal mondo, addirittura mercificano anche i loro figli. Questo è stato fatto sulle Iene, a me sono rimasto veramente molto, molto colpito. Sì, ma perché lei non è colpito da quello che succede nel mondo del calcio, del ciclismo o quant'altro? I genitori che sono pronti a far di tutto perché il figlio diventi un chiappucci, visto che l'abbiamo evocato prima, o un maradona. Scusi, perché qui sennò viviamo nella logica di balocchi, siamo bravissimi, che bravi che siamo qui, ce la raccontiamo. Ma no, ma è così, provi a sentire gli allenatori o comunque i direttori sportivi delle squadre ciclistiche, che invasione di campo c'è da parte dei genitori e che in qualche modo interpretano il lavoro, o meglio, le modalità con cui un tecnico lavora, una esclusione a priori del fatto che il figlio non sia il campione. Perché? Io ricordo un ragazzo che mi ha chiesto di appoggiarlo per il grande fratello, ma è venuto col genitore. E io ho domandato, ma per quale motivo voglio andare al grande fratello? E mi ha ribadito che una compassata televisiva cambia la vita. Vuol dire che sostanzialmente non è mica colpa loro, attenzione, perché qui continuiamo a buttare addosso a queste le responsabilità che sono di un sistema che si accavalla o che comunque si sedimenta ed è diventato un meccanismo propulsore di un'identità che diventa successo indipendentemente dallo sforzo che si fa. E questo è il grande tema. Perché questo è un paese vecchio e privo di spirits? Perché per questo. C'è la necessità di affrontare immediatamente quello che serve, e agguantare quello che serve piuttosto che lavorare per qualcosa di molto più difficile, ma che dà senso a se stessi. Mi viene in mente le frasi, basta che mi dai la Ferrari, il calcio, e poi dopo il resto può andare a Ramengo. Ma il tema mi piace che l'abbia riportato su quello che poi dopo è la nostra tematica di giornata e quella di come eravamo. Mi consiglio una cosa, per esempio, se guardate il format dei Tg, ma tre quarti è di cronaca. Non c'è, tanto per intenderci, nel palinsesto dei Tg, nessuna piattaforma di politica estera. Questo dovremmo chiederlo al senatore. Soprattutto in questi ultimi tempi la politica estera tenga banco in tutti i Tg. C'è il caso anche della Libia. Sì, è la politica. Ah beh, sì, se capita la Libia, capisco, per carità. No, ma la politica estera è un altro modo, attenzione. Cioè un paese come il nostro, che viene comunque considerato entro le dodici nazioni, dodicesimo posto, come realtà industriale mondiale manifatturiera, di fatto gioca la partita, come fanno i telegiornali, per esempio delle grandi potenze di questa cosa, inquadrando sempre la notizia, anche per quanto ci riguarda, in un contesto di politica estera. Sì, ma io non vorrei andare sul discorso politico, però, senatore, tanto per richiamarci a questa espressione, sì, mi pare che la Libia sia diventata un problema minore, ma maggiore era il baciamano di Berlusconi. L'hanno confezionata ad hoc questa cosa qua. Sì, lo stavo dicendo prima, che la cronaca si impone da sola, non è che il cronista o il giornalista possa ignorare quello che la cronaca gli butta in faccia, è poi il modo di raccontarla, che differenzia le diverse epoche, le diverse sensibilità, ma anche le emittenti. Questa storia, sì, del baciamano che Berlusconi ha fatto... Che poi credo che sia qualcosa di normale, perché anche là ha un'autorità anche religiosa. Non è un lazio, una cosa assolutamente non reverenziale. Ma come mai si tende ad evidenziare quello piuttosto dei 10.000 morti? No, ma per chi non credesse a questa versione, non conosce Berlusconi, ma secondo voi Berlusconi è uno che si genuflette davanti a Gheddafi, lo ha preso in giro con quel gesto, più che onorarlo, secondo me. Ma quello che, volevo dire, la cronaca c'è, va interpretata e selezionata dal cronista. Dove il cronista è arbitro e purtroppo ultimamente non è al di sopra di ogni peccato, è nel modo di proporla. Quei teatrini della politica che ormai vengono proposti da Vallarai, diversi canali, ma anche da emittenti private. Il metodo della battuta rapida, poi della smentita e poi della controbattuta, e poi questi mosaici incredibili che non fanno altro che accentuare il contrasto e non contribuiscono minimamente a chiarire il problema. Ma sarebbe meglio fare un'intervista di un minuto, un minuto e dieci, che sembra poco ma è lunghissima, a una persona di un partito una sera e la sera dopo o un'ora dopo al rappresentante del partito avversario. In quel modo si capirebbero le differenze, le valutazioni. Ma questo è un metodo che qualcuno ha inventato e che oggi nessuno riesce più a soffrire. Ecco però voglio dire, sulla copertina dicevamo prima che c'è una televisione ricca di informazioni, perché guardiamo il panorama dell'informazione delle televisioni, insomma tra Sky, Medias, insomma ce n'è a Bilzeb. La grande libertà oggi è che c'è scelta. Sì c'è scelta però la gente sa meno di prima. Questo cos'è? Un enigma? Non sa scelta. Eppure tutti parlano la stessa lingua. E' la teoria che dice, ma i trattati, che troppa informazione e nessuna verità. Dice, credo che questa cosa qua succeda anche nelle tv locali. Anzi io credo che forse nelle tv locali ci sia qualcosa di patetico, perché si cerca di tirare sera. Guarda, io ti dico una cosa. Allora, partiamo velocemente da, perché è l'input della nostra emissione, vent'anni fa si creava di più, erano altri tempi, perché si pensava prima all'idea e poi alla copertura finanziaria. Prima il contenuto e poi i soldi. Se uno si ricorda le televisioni locali di 15-20 anni fa, c'era molta più, come si chiama in termini tecnico, autoproduzione. C'erano quiz, trasmissioni, intrattenimenti, eccetera. Poi sono cambiati i tempi, adesso si pensa prima al budget e poi all'idea. Ci sono editori televisivi, come uno di una televisione per cui ho lavorato, che ad esempio hanno dei problemi se si lavora troppo. Io sono stato ripreso perché facevo troppi straordinari. Una volta non era così, dicevo si lavorava la notte. Questo perché c'è adesso il budget che preme sul collo di queste tv, che appunto giocano volenti o non volenti a risparmio. Questo cosa vuol dire? Che oggi le tv locali sono appiattite sui telegiornali, che in realtà è l'unica ragione per guardarle, se non per altre cose che però sono film di serie B o altre cose che magari possono essere per appassionati non troppo. E allora ci sono adesso canali all news che però sono la riproposta in stile minestrone dei vari telegiornali. Una sorta di imitazione patente. E qual è il problema? Se il telegiornale è buono e ce ne sono i telegiornali buoni, la tv in generale è buona. Se il telegiornale è patetico e ce ne sono i telegiornali patetici nel nostro territorio, ne risente anche l'immagine generale della televisione. Allora, l'agente senatore si fa una domanda, visto che lei è vicino, diciamo così, a Palazzo, insomma, in qualche maniera vi confronterete tra senatori o parlamentari. Questa è una mia impressione che non vuol dire nulla, è una mia impressione come telespettatore. Prima l'abbiamo accennato, io vedo dei programmi, tipo anche Anno Zero, che è condotto in maniera magistrale, io sono convinto che Santoro sappia. E la televisione, lui sa cosa voglia dire fare la televisione come eccellenza, come si pone, come mantenere il palco. Però credo che sia sotto gli occhi di tutti che ci sia una componente veramente quasi a volte vessata, fanno parlare gente che a volte non sa neanche cosa dice del pubblico, ma pur di fomentare il populismo. E credo che questo sia anti-educativo, e ce ne vediamo tanti di queste trasmissioni, anche per la verità sulle reti media, non è che tutti sanno un po' appiattiti più nell'informazione, più nel chiarimento, nel fagocitare tante liti. Io sono rimasto profondamente giornalista e teleradiocronista, nonostante i troppi anni di impegno politico. E allora ho valutato e sto valutando queste problematiche più da giornalista. E sono quindi difensore della libertà di stampa in senso lato, dell'autonomia anche di molti conduttori, del diritto di certe trasmissioni di impostare anche i temi in maniera provocatoria. Ma io dico francamente, e faccio nome e cognome, quello che fa Santoro, non ha mai fatto nessuna televisione privata o pubblica. Lui è veramente diventato il padrone di uno spicchio di televisione e oggi sta forzando ancora di più questo rapporto con la dirigenza. Oggi per caso c'è una dirigenza orientata, non tutta perché il Presidente non è certo di centro-destra, ma orientata verso il centro-destra. Santoro farebbe la stessa cosa se ci fosse la parte opposta alla dirigenza. La sua è una sfida personale. Vi ricordate quando nella trasmissione di Celentano, mi ricordo che si chiamasse, disse io voglio il mio microfono. Era appena venuto via dal Parlamento europeo, una vergogna anche personale, ti fai eleggere al Parlamento europeo, prendi in giro qualche migliaio di elettori, poi stai un anno su, ecco un milione di elettori, è rimasto un anno lassù, si è accorto che non riusciva a fare niente, non capiva nemmeno dove fosse capitato, e evidentemente anche i mitici guadagni dei parlamentari europei per lui erano solo delle briciole, perché lui ha sempre guadagnato, quando io ero in Rai, io ero inviato speciale, e anche lui era più o meno a quel livello lì, ma lui aveva un contratto ad personam. Cosa vuol dire? Che io avevo lo stipendio sindacale, lui prendeva 12 volte lo stipendio sindacale, che prendevo io. Ecco, lui è rimasto a quel livello, non è l'unico. Un buon manager di se stesso. Non è l'unico. E quindi quando lui si pone in una sfida con la dirigenza, non fa che caricare ancora di più di importanza il suo ruolo. Voglio il mio microfono, disse quella volta, ma nessuno di noi ha mai avuto un suo microfono. Ha avuto i microfoni che la Rai metteva a disposizione in base alla tua idea, al valore che poteva avere la tua trasmissione. Ecco, quello è un cattivo esempio di conduzione, non è un esempio di libertà di stampa, a parte poi i vari maneggi, che sono talmente evidenti che anche chi è orientato politicamente verso quella conduzione li capisce. Anche il pubblico, come vedete, raramente non è selezionato per ottenere un certo tipo di risposta. Questo non è giornalismo. Alessandro, dice una cosa interessante. Anche gli ospiti vengono scelti in maniera scientifica per poter arrivare a determinate conclusioni. Noi non sappiamo tutte queste alchimie, perché dobbiamo stare attenti. È evidente. A casa nostra siamo in una piccola piazza, come dicevi prima te, bisogna prima noi creare il progetto, poi dopo, se Dio ci vuole bene, insomma, qualcuno pensa potremmo continuare, ma è una grande difficoltà. Questa dei soldi, posso aggiungere una cosa, mi ha fatto venire in mente il momento attuale in Parlamento. Lui diceva, più che chiederti se l'idea è buona, ti chiedono se c'è uno sponsor per pagarla. Oggi, D'Agroo ha fatto il parlamentare prima di me, in ogni proposta di legge, in ogni dibattito, tu presenti un emendamento, l'idea di una legge nuova, non ti chiedono che cosa tu voglia raggiungere, o se quella legge sia... L'ideale. Condivisa, ti dicono, pur che sia in invarianza di bilancio, la parola magica è invarianza di bilancio, che vuol dire, pur che non costi nulla, come fai a produrre idee nuove, buone, che producono effetti positivi, senza avere un costo di qualche tipo? Parliamo di televisione, torniamo all'argomento principale, allora, riferendosi alle grandi emittenti, ma soprattutto alle piccole emittenti, che comunque coprono un bel pillo, insomma, se guardiamo in Italia, insomma, ce ne sono molti. È una realtà importantissima. Importantissima e anche un po' deprezzata. Ma lo sputtanamento paga, lo sputtanamento tra ospiti, il linguaggio, diciamo così, di denuncia. Ma alla fine, può pagare superficialmente, ma noi a volte ci dimentichiamo che il pubblico non è così, tra virgolette, stupido, come qualcuno vorrebbe pensare. Condivido in pieno questo. Assolutamente. Può cascarci una volta, ma poi vieni sgammato subito. Soprattutto se tra chi fa televisione e chi sta dall'altra parte del teleschermo si forma un rapporto, un feeling quotidiano, eccetera, non puoi tradirli più di tanto. Se poi lo fai, ti tagliano le gambe. Mi date 30 secondi di pubblicità? Allora dicono se i telespettatori... E ci mancherebbe altro. State sciolti. Stiamo sciolti. Sono Romano Cornale, testimone e aspiratore per l'Italia dell'Agostino Braorei. Vi presento la mia cucina bavarese con giuppa di porcini, il gulas con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswuster con la senapi di Monaco e la Weissenbeer. E per finire i dessert con la sacker e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Centroservizio Autofficina Sandri specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tez sul Brent. Centro Revisione Autofficina Sandri la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5 laterale di via Pecori-Giraldi. Ben rientrati in studio anzi in questa sorta di piazza. Allora, si parlava prima di come siamo cambiati dottor Luigi D'Agro quello che la riflessione faceva a Tic a me piace molto però credo che il linguaggio a livello di TV private sia ancora molto importante. Lei come la vede la televisione proprio a livello privato a livello quasi rionale oppure a livello provinciale? Guardi, io ho visto che si copiano sono televisioni che si copiano cioè da telespettatore televisioni che si copiano il palinsesto è abbastanza anzi c'è chi spezzetta molto tenta di focalizzare fare un focus proprio sulla realtà più spicciola più territoriale la notizia più banale sostanzialmente quello che in qualche modo è la parte del giornale locale che diventa notizia televisiva poi è una ripetizione di qualcosa che insomma continui a cambiare per cercare di trovare magari un sito di approfondimento o comunque quel qualcosa che ti interessi faccia interessare l'opinione pubblica su quella realtà che riguarda la regione o la politica locale le amministrative ma anche il tentativo di focalizzare su un problema importante che abbia attinenza con l'infrastrutturazione per esempio sul tema della mobilità e quant'altro sempre legati a logiche di interessi con il territorio la possibilità di sentirsi in qualche modo con l'occasione del giorno dopo di poter dirla propria al bar in sostanza manca ancora l'idea forte del concetto di riuscire a trasformare o a creare una cultura diversa rispetto al chiacchiericcio la cultura del chiacchiericcio ma non c'è anche da parte forse degli editori ma anche credo degli giornalisti poi me lo dirai anche tu Alessandro la propositività province insomma non province ma paesi come Bassanone e Grappa abbiamo moltemente si parla dei problemi di tizio Caio Sempronio però non ho mai ascoltato non so un patto sulla viabilità ma viabilità vera non so sotterranea come potrebbe essere lì oppure come ha fatto Torino c'è una una televisione di proposta anziché di denuncia su tizio Caio Sempronio perché si come diceva il dottore si rischia di vezzeggiare comportamenti dei più grandi ora tanto vale che mi guardo la televisione grande e poi dopo se non mi interesso dei problemi veri credo che poi dopo questi si tratti dei problemi veri la mobilità credo che sia uno dei primi principi da poter insomma snocciolare con le famiglie e le rifaccio una domanda l'università costa molto però ormai se uno si è fatto si è posto un problema che se da Bassano Venezia o da Padova o da Vicenza ci fosse i treni che in tre quarti d'ora raggiungessero dove ci sono le capitali delle università forse si risparmerebbe qualche soldino di affitto e insomma sono 300-350 euro al mese alla fine altro che pagarsi le tasse dell'università senatore ma al di là dei temi che sono mille conta la scelta di base che è quella di informare piuttosto che di divertire serve anche quello per carità io a uomo RAI 30 anni RAI non mi vergogna dire viva le tv private meno male che sono arrivate per due ragioni la prima l'ho spiegata in precedenza ha stimolato noi che eravamo un po' assopiti nel nostro guscio monopolistico eravamo troppo tranquilli ha stimolato noi a fare meglio a fare di più e soprattutto però ha contribuito a polverizzare la informazione a mettere radici anche negli angoli più lontani e qui però sta la maturità e la capacità professionale di chi poi va a lavorare in queste televisioni private a sfruttare questo secondo importante ruolo chiaro che la RAI anche la RAI 3 quella regionale non può arrivare dappertutto non può coprire tutte le esigenze del paese del suo borgo e così via e questo è un ruolo che le tv private invece debbono assorbire un ruolo complementare più che in concorrenza con la RAI o anche più che in concorrenza fra loro io abito in Trentino abbiamo un paio di televisioni molto agguerrite devo dire che fortunatamente c'è anche un livello giornalistico buono professionisti io credo anche non sono andato a vedere nelle buste paga ma credo che vi siano contratti regolari un'altra realtà contratti regolari giornalistici questo lo dico perché contribuisce a creare stabilità qualità del lavoro e responsabilità anche io ti assumo ti do lo stipendio da giornalista ma mi devi dare un problema e lo spendo in maniera molto intelligente io vedo Tele Trentino per cui so cosa dice e queste sono televisioni che vanno sul territorio esatto non si occupano più di tanto della parte nazionale esatto c'è una cosa interessante in Trentino è un oasi io ho visto i campionati italiani di ciclismo su pista sono rimasto folgorato anzi strafolgorato il tricolore dappertutto eravamo a Mori quindi contraddizioni esagerate anche l'informazione qua a Pagadazio la televisione che vorresti oppure l'informazione che vorresti nel territorio quale sarebbe? nei tuoi sogni se te lo permettessero ormai un domani fa I have a dream ecco una televisione che mi permetta di fare denunce di fare proposte denunce proposta senza avere l'assillo di dovermi giustificare con qualcuno perché poi si rischia di parlare mai di qualcuno che certo la denuncia è più facile perché ovviamente l'albero che cade fa più rumore della foresta che cresce è più popolare è più vista fa più pubblico la proposta è più difficile perché sia nella denuncia che nella proposta devi comunque stare attento chiunque a un certo punto non andare contro gli interessi del tuo editore quando hai un editore giustamente ti dà il lavoro rispetti la sua posizione ma devi anche non andare contro i suoi interessi io ti dico una cosa io adesso ho lasciato la televisione momentaneamente e lavoro sul web Bassano Net è un portale di Bassano dove sto respirando quell'era di libertà che sentivo vent'anni fa in tv un'altra fase pionieristica quella del web io credo moltissimo nel web certo ci sono i primi embrioni di web tv attenzione perché negli Stati Uniti la web tv sta soppiantando la tv via cavo o digitale che dir si voglia noi seguiamo dieci anni dopo ma attenzione c'è un po' di tutto dentro bisogna anche dire la verità certamente dottor Vigidegola siamo quasi in conclusione però se si parla di mobilità a me piacerebbe puoi fare un'intera puntata ma anzi molte più perché se si parla di mobilità c'è una scienza cioè lo spostamento dell'uomo bisogna che cominci a fare riflettere che è cambiato allora se si parla della Gelmini con la riforma che ha tanto fatto discutere però credo che il discorso sia a monte dei passaggi più veloci dei termini di partenza arrivi certi in tre quarti d'ora si può arrivare un po' dappertutto la penisola italiana fortunatamente è stretta ed è servita anche notevolmente nelle grandi città con le università si toglierebbe veramente molte spese per coloro che non se le possono permettere ma guardi se per esempio si deve fare un atto di denuncia di informazione è quello che molte volte la cultura della popolazione ha scambiato la qualità con la comodità stiamo pensando per esempio a che cosa ha significato il taglio di sedi ospedalieri ma probabilmente se guardiamo bene anche da queste parti dovremmo comunque cominciare a guardare con il compasso che cosa vuol dire nell'arco di dieci chilometri e cominciare a ragionare su questo è chiaro che questo significa anche mettere in rete la popolazione con il luogo dove si può curare lo stato di necessità ma vorrei ricordare per esempio che cosa è stata la delocalizzazione dell'università Bassano stessa aspirava ad essere un luogo e sede universitaria l'esperienza di Feltre è sintomatica però abbiamo sottratto molte risorse per esempio a che cosa alla ricerca o comunque all'eccellenza per avvicinare invece i cosiddetti ragazzi alla porta di casa insomma è chiaro il tema dei servizi e dello spostamento ha un grande valore in relazione anche alla spesa per quanto riguarda poi la residenzialità su questo non c'è ombra di dubbio sto pensando a Bassano che è a metà strada fra Trento e Venezia nella sostanza un punto due poli di riferimento universitario di eccellenza ma se lo potrebbe scegliere effettivamente è che arrivare a Trento in treno è un po' lunghetta lo è lunga anche arrivare a Venezia ma mi sto domandando perché su queste cose non si investa perché per esempio non si apre un dibattito televisivo coinvolgendo anche le televisioni del Trentino su questo una capacità di scambio di osmosi su un problema così delicato voi avete le conoscenze mandateci qua in piazza noi siamo ben lieti di occuparciane siamo proprio in chiusura c'è una cosa interessante però io volevo contraddirla sul discorso della Rai una volta in Rai c'erano delle pubblicità e qua chiudiamo che si ricordavano ancora degli avvenimenti oppure delle ricorrenze come la festa del papà in quelle pubblicità dove erano veramente delle pubblicità credo educate oggi questo non succede più e credo che forse in questo la Rai dovrebbe ricapitolare riappropriarsi del suo background che era un background di grande eccellenza la pubblicità mediterebbe un dibattito di un'ora in quanto essa stessa modifica e soprattutto condiziona il gusto della gente ma anche il modo di esprimersi della gente quanti giovani sembrano schizzati solo perché copiano plagiano questi spot questi comportamenti questo modo di guardare il prodotto alla vita sarebbe un dibattito molto interessante mi interessava anche il discorso del collegamento la vecchia Valsugana Trento Bassano non è un problema solo di treno che va e treno che viene è proprio il collegamento fra i servizi diversi che vi sono fra queste due città per esempio in Trentino c'è un gran dibattito su Metroland un progetto ambizioso che vorrebbe portare treni metropolitane anche nelle vallate più lontane è vero ci sono dei denari ci sono i soldi sappiamo che il Trentino ha questa autonomia ma Bassano che è a 80 km da Trento potrebbe creare come ha fatto Feltre le famose sinergie per migliorare i collegamenti che significa flusso soprattutto di turisti di studenti di mobilità di lavoratori e così via questo potrebbe essere un bel tema muoversi per lavorare per conoscersi e per migliorare soprattutto abbiamo aperto l'idea di poter fare un telegiornale un po' diverso partendo dalla mobilità ma ce ne sarebbero tanti discorsi Alessandro siamo proprio in conclusione insomma spero che siate stati bene in questa piazza faceva anche abbastanza caldo guarda posso concludere da televisivo ho detto tante cose magari un po' negative però posso dire nonostante tutto come un vecchio carosello la televisione nonostante le botte che ha preso ha ancora una buona cera quindi viva la televisione il servizio del bar vicino mi pare che sia un po' carico perché noi siamo qua a scartamento ridotto onorevole l'operatrice non può fare anche la bar ma quindi portate venia in un'altra televisione potrebbe fare anche qualcos'altro beh insomma noi cerchiamo di scafarcela come possiamo siamo proprio in conclusione ricordo che settimana prossima sarà una puntata dedicata alle donne visto che sarà la vigilia della festa delle donne avremo un ospite veramente eccezionale Mauro Corona qua quindi saremo molto contenti di condividere con lui quello che è l'essenza della festa delle donne soprattutto così con i suoi ricordi con i suoi bellissimi racconti però bianco o nero o nero è finita qua grazie a un orrevole anzi dottor D'Agro grazie Alessandro Ticce e grazie al senatore Giacomo Santini buon rientro a Roma per domani grazie arrivederci o bianco o nero vi è stato offerto da basta una notte in un Falkensteiner Hotel per rilassarsi tre per ricaricarsi sette per rigenerarsi pensate benvenuto a casa grazie a tutti 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 grazie a tutti